si respira aria di playoff al Fadini il Giulianova alla rincorsa della seconda posizione il verde oro di Montesilvano a meno 3 dalla zona spareggi per un posto al sole ma l'illusione per gli ospiti durerà poco primi 20 minuti horror dei pescaresi e la signora dei delitti non si fa pregare all'ottavo il pallonetto di Giglio a cercare di Paolo che raccoglie ubertini non trattiene l'attaccante defilato trova il vantaggio passano poco più di 5 minuti e stavolta il lancio di Barlafante pesca buonavoglia che uccella l'incolpevole estremo portiere il Montesilvano abbozza una reazione che però si ferma al cospetto della organizzata difesa giallorossa che alla mezz'ora riprende a macinare Barlafante sollecita di Paolo che sotto misura manca il 7 ma è solo il preludio un minuto di fuoco tra il 32 e il 33 azione di attacco giuliese conclusa da Giglio sebbene incontri una deviazione e poi ancora di seguito senza respiro il quarto gol con Di Paolo che riceve un taglio sulla difesa troppo morbida dei verde oro il piatto a fil di palo Antignani perde marrone cambia anche Besim Mallocum la prima offesa è a bocca nera viene dal quarto di cerchio di Majorani che taglia l'area e attraversa la porta ma non trova nessuno pronto alla deviazione la ripresa non dice granché al risultato messo in ghiaccio dal Giulianova sebbene proprio in apertura da una battuta d'angolo la testa di Barbarossa sorprende la difesa di casa gol della bandiera poi una lunga concessione ai cambi nessuna azione di rilievo accademia che trova tre momenti importanti il gol annullato a Traini per offside al ventitresimo il tentativo di Petito che riceve da vedovato al termine di una lunga azione di gioco verde oro e il sigillo di Persiani che in pieno recupero offre il copia in colla del risultato dell'andata 5 a 1 Mister avete ritrovato i gol perché il gioco comunque c'era sempre stato questo era quello che mancava a questa squadra che oggi non ha incontrato proprio l'ultima della classe assolutamente no questa è una squadra che sta facendo bene ha fatto bene tutto il campionato ha messo in difficoltà tante squadre vi posso dire garantire pure la sensazione in campo che è una squadra solida allenata da un mister secondo me uno dei più bravi di questa categoria io l'ho conosciuto quest'anno e vi posso dire che mi ha dato un'ottima impressione un ottimo motivatore che fa crescere pure diversi ragazzi e ha dentro dei ragazzi importanti per quanto riguarda noi io penso questo e oggi lo posso dire che in queste 8 parti 8 pareggi io vi posso dire che compresa quello di Casalbordino che fino a 21 della fine vincevamo 2 a 0 abbiamo sempre cercato di fare la partita ma io sono contento soprattutto per questo gruppo abbiamo finito a centrocampo con 3-2004, 1-2003 e 2 punti 2-2002 se vedete pure la difesa tutto è 2001-2002 se vedete la discinta definitiva quella finale è veramente da brividi e questi sono ragazzi che durante la settimana si sono sempre impegnati poi quello che succederà pazienza su tutto però io penso che quest'anno a livello di gioco abbiamo fatto vedere qualcosa loro hanno fatto vedere qualcosa io mister partirei con i complimenti di Cerasi che ha detto di aver trovato una squadra e un allenatore che comunque lavora molto e che sa il fatto suo ma io le ricambio di cuore anche perché con il mister c'è un bel rapporto già venerdì quando fece la conferenza stampa lo dissi che a parte che è una persona simpatica ma poi ha dato una filosofia di gioco e una mentalità di gioco a questi ragazzi che all'inizio nessuno ci poteva credere e sperare adesso si trovano lì e io spero che arrivino fino alla fine e glielo auguro perché se lo meritano Montesilvano che ha fatto sempre benissimo in trasferta oggi avete trovato un Giulianova spietato a parte che abbiamo trovato un Giulianova spietato che ogni palla la metteva dentro e quindi ci sono stati superiori in lungo e in largo e ci sta pure da dire che i primi 20 minuti i ragazzi hanno avuto non so cosa sia successo poi domani lo analizzeremo insieme perché 20 minuti così non avevo mai visto quindi magari c'è stato un attimino di sbandamento dove loro sono stati bravissimi a mettere dentro tutte le occasioni che gli sono capitate però la superiorità è inutile a discuterla sono stati troppo superiori e non c'è stata partita per niente nel secondo tempo abbiamo reagito mettendo tanti ragazzini dentro posso dire che tutti quelli che sono entrati si sono comportati davvero molto bene? sì 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 ma quelli sono tutti ragazzini che però posso dirti che domani devono giocare con la riunione se questo mi dispiace perché avrei evitato però il presidente li ha visti tutti magari l'anno prossimo in Serie D se ne prende tre o quattro mi fa contento non è così Grazie a tutti.